L'aiuterò io, va bene? Ok? Io... Agda, Morten, Yosef. Proverò ad aiutarla. Ok? Ok. Agda Benstrom. C'è Morten Benstrom o Agda Benstrom? Yosef Benstrom? È qui? Morten Benstrom? Ja. Morten Benstrom, svedese. Ja. Conosco tuo padre. Pappa? Sì, sì, tuo padre è qui. Te lo porto qui, ok? Sì. Ok. Benstrom! Morten... No. No.